Comunque detto questo, per spiegare un po' il significato di quel video che ho fatto su Gesù, secondo me, io appello per dire che mi sento più vicino a uno che crede piuttosto che a uno che non crede, assolutamente, tanto per iniziare. Cioè, un ateo io lo vedo più come lo vuole il sistema, cioè, se uno vede quello che spinge il sistema, è più un ateismo piuttosto che un credente. Un credente è uno che ha una willpower più forte, cioè, a forza di volontà più forte. Quindi, però il significato lì, solo che non sono riuscito a dirlo, anche perché quando pensi a chi cazzo guarderà sto video, cioè, dementi totali, poca gente vede il video, neanche me so... Però, il messaggio era questo. Potenzialmente, secondo me, il credente potrebbe essere uno cazzuto, no? Come ho detto pure altre volte, cioè, per il sistema. Potenzialmente, se facesse veramente quello che ha fatto Cristo, no? Lasciamo perdere, è esistito o non è esistito? A cui non lo sappiamo, e vabbè, qualcuno dirà che lo sappiamo, comunque sia. E l'importante per me è vivere quella roba che loro dicono di credere. E il 2020 ha dato una prova per mettere in pratica le cose che credono, che pregano, che cazzo c'è. E' arrivato il momento da dove devi, come Gesù ha fatto con i potenti, no? Non è che andava, che qualsiasi cosa diceva, lui diceva di sì. Cioè, e dovete fare quello che a parole dite, no? Quindi, il 2020, che cazzo avete messo tutti la mascherina, tutti siete stati buoni, non c'avete manco una multa, ma il cristiano dovrebbe un po' un minimo soffrire, no? Secondo... che poi soffrire, cioè, io lo vedo anche come c'è, se c'è uno stronzo che me vuole ammazzare, io mi devo difendere, punto. Secondo me, tutta questa modalità, quindi di mettere in testa la testa, di essere cristiani buoni, eh? Perfetto. Ma se siamo in comunità? Ma adesso non c'è più la comunità, ragazzi. Cioè, non c'è più la comunità, non c'è più un insieme. Cioè, ormai ognuno di noi sta per cazzi sua. Cioè, vedi la chat qua, non parla nessuno, cioè, ognuno, cioè, siamo total... abbiamo... siamo self-sufficient, no? Come si dice in inglese. Siamo autosufficienti nei nostri loculi e non c'è più la comunità. E quindi non c'è più nemmeno senso questa cristianità. A questo punto io adotto un altro tipo di... Cioè, voglio dire, se noi possiamo credere quanto cazzo ci pare, ma se questi qua ci vengono e ci piano in casa, cioè, siamo a questo livello ormai dal 2020, che cazzo ci faccio con una cosa del genere? Quando non c'è più nemmeno la comunità. E la comunità ce l'hai solo se vai in chiesa a pregare con altri mongoloidi, a fare l'Ave Maria, l'ipnosi là, senza senso, e poi dopo vado con la mascherina in giro, eccetera, eccetera. Ho paura del virus, eccetera, eccetera. Cioè, non ha più senso ormai. Io adotto un altro tipo adesso. In questo momento è sopravvivere, in questo momento. Da un momento all'altro questi stronzi potrebbero venire a prendermi e portarmi dentro. No, non ha funzionato, ragazzi. Cioè, per me il messaggio di Chris è tutto. Perfetto. Perfetto. Ma chi cazzo non... Il 2020 mi ha fatto capire che non ci sono cristiani. Tu cazzo stanno. Sono andati avanti col sistema. Quindi questa è la cosa, questo credo. Quindi per dire quello che non sono riuscito a dire. Il messaggio quindi della cosa è, come diceva anche Cooper, che ho fatto il video di Cooper dove dice Ah, che bello mettere in testa... Cioè, che grande lavoro hanno fatto chi ci controlla, mettere in testa al cristiano, che invece di combattere, no? Come un minimo ha combattuto Gesù, no? Anche se alla fine, insomma, si è fatto mettere in croce tutto quanto. Però comunque sia, sono un blasfemo, non dovrei dire queste cose. Però comunque sia. Cristo comunque va contro l'autorità, non ha paura di dire quello che pensa, eccetera, eccetera. Ma molta gente ha paura anche di mettere il nome, il cognome, la faccia, qua in chat o su online, per dire. Quindi, cioè, se siamo così, semplicemente che anche online ci nascondiamo e buttiamo solo il commento e spariamo, non c'è più comunità, ragazzi, non c'è più un cazzo. Ma io sono contento per i cattolici per dire che riescono in qualche modo a stare in chiesa insieme, a pensare che c'è un gruppo, un qualcosa che li lega in qualche modo, ma io sono convinto che anche Mario, cioè, che cazzo una volta che esci dalla chiesa là, ma, non lo so, molta gente, ne so sicuro, che crede nel virus e cazzo, ne so, e non penso che c'è molto da sparticolo qua, gente. Comunque sia, io sono contento con te se tu ce l'hai questa cosa. Come ho detto, per me è ottimo, però, come stavo dicendo, è ottimo. Poi basta vedere le facce là, la stupidità di tutta questa gente che dice che sta arrivando Gesù. E sono millenni che dicono questa cosa. Solo questo dovrebbe farti venire il dubbio. Per il resto, come modalità, finché siamo in comunità, il cristianesimo è perfetto. Sarebbe perfetto se fossimo in grado di avere una comunità. È il modo migliore, secondo me, di comportarsi. Ma in questa modalità che siamo adesso, dove siamo totalmente isolati l'uno dall'altro, non ha più senso. Bisogna adottare modalità guerra. C'è un software, invece del cristianesimo in testa adesso, modalità guerra. Non modalità cristiano in questo momento, perché se questi qua, il sistema, ci butta al noi il cristianesimo, intanto però ci sta inculando, non ha senso. Quindi, vabbè, ognuno poi sogna quello che vuole, sarà salvato e tutto andrà bene, eccetera, eccetera. Però questo è come la penso. E, ripeto, secondo me, finché siamo stati in comunità, eccetera, eccetera, senza guerra, senza... In realtà noi siamo sempre stati gestiti da qualcuno che ci ha fatto fare quello che vuole. Però comunque aveva un senso, cioè comportarsi bene in questo modo qua, no? Cioè amare, non dico amare, però comunque, insomma, scomportarsi decentemente, no? Però adesso, dove cazzo ci litigiamo, anche col vicino, non ci possiamo vedere, non ci salutiamo, non parliamo con nessuno? Che cazzo? Ormai è finita, ragazzi. È finita. Che cazzo? Non ha senso ormai. Ognuno pensa per cazzo sua. In un paese cristiano questo, eh? Quindi. Chiudiamo qua, è diventato un po' lungo.